Vittorio Parigini, tra poco tornerà il trofeo Mamma Cairo, tu ne hai giocato e hai vissuto anche il primo trofeo che ricordi hai, che cosa ci puoi dire di questo torneo? Penso che sia un torneo di alto livello, il trofeo dedicato alla mamma del presidente che era scomparsa, ho un bellissimo ricordo perché c'erano tante squadre forti, il livello era molto alto e ho vissuto con i miei compagni che adesso gioca qualcuno in Serie A e qualcuno in Serie B delle belle emozioni. E che cosa allora possiamo dire ai tifosi di Quattordio, di Asti ma anche di Alessandria e poi ovviamente di Torino in vista di questa nuova edizione? Dico di andare lì a vedere questi ragazzi perché sarà un torneo bellissimo con tante squadre forti e ci sarà da divertirsi quindi è giusto che andate a vederli.